Bentornati a tutti sul mio canale, oggi video brevissimo. Parliamo di una tastiera IBM Model M, la mitica Model M. Una tastiera meccanica ovviamente, ha fatto la storia dell'informatica mondiale. Vi dirò poche cose perché così poi lascerò la parola alle immagini e al suono dei suoi fantastici tasti meccanici. Allora, questa tastiera è stata prodotta dal 1985 fino alla prima metà degli anni 90 da IBM in tre stabilimenti negli Stati Uniti, Messico e Regno Unito. Inizialmente solo da IBM e poi successivamente su licenza anche da Lexmark. Ovviamente questa tastiera è famosa per la sua robustezza, per il suono dei suoi tasti, inconfondibile, non ce n'erano altri uguali. Se fossimo stati in qualsiasi ufficio di tutto il mondo avremmo sentito il suono dei suoi tasti da fuori la porta. Quindi c'è poco da dire. Questo modello in particolare del 1990, se qualcuno volesse acquistarla, la produce attualmente la società Unicomp negli Stati Uniti. Loro hanno praticamente riacquistato i macchinari originali, quindi gli stampi, per produrre queste tastiere. Loro le stanno riproponendo sul mercato, ovviamente aggiornate con connessione anche USB. Basterà andare sul loro sito e ordinarla. Ovviamente hanno un costo abbastanza importante. Vi lascerò il link della società in descrizione per chiunque voglia andare a curiosare sul loro sito. Ora vi lascio le immagini e al suono di questi fantastici tasti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.